Siamo qui in questa meravigliosa location, per partecipare a uno dei primi forum di Richmond. È già iniziato solo un po' di ore che è iniziato, che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Mi sta lasciando sicuramente una sensazione di tranquillità, di benessere, intesa nel senso di condivisione di belle idee, belle situazioni che ci conciliano con queste tematiche salute e sicurezza che generalmente sono associate a situazioni molto più drammatiche, possiamo anche dire nella routine, anche noiose. Ok, senti, senza dirmela, c'è una parola che ti viene in mente, che riassuma tutto quello che hai detto, quindi una parola che riassuma questo forum? Pensaci? Trovala? L'hai trovata? Adesso mimamela! Questa! E non ho capito, è come il quiz! Vai avanti! Non capisco! 60 secondi! Benessere? Tranquillità? Quasi! Serenità? Esatto! Bravo! You got it! Grazie, grazie mille! Prego! Grazie mille! Ciao! 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 Ciao!